Ciao a tutti, sono Dario Barisini, ex disciplinata, ora di 6.9. Questo breve di spazio elettronico per ricordare a tutti che sabato 27 gennaio 2018 in Via dei Neri 15 a Firenze, alle ore 17.30, saremo presenti allo store di Contempo Record per presentare un nuovo lavoro, di 6.9. Noi saremo lì, li aspettiamo. In altri cuori, ciao. Migration of money Mothfire Poverty share Price on demand Mothfire I.N.S. Mothfire E.C. Mothfire No future Mothfire I.N.S. Mothfire I.N.S. Mothfire I.N.S. Mothfire